Per noi è un grande orgoglio ospitare la Final Four di Supercoppa qui a Bologna, tra l'altro Bologna città capitale, una delle capitali del basket italiano e non solo italiano per la sua storia e la sua tradizione. E quindi un grande orgoglio perché verranno qui i più grandi campioni del basket delle squadre nazionali, riusciremo anche a far entrare un po' di pubblico, ovviamente ben distanziato in sicurezza. Insomma è il segno di quanto investiamo sullo sport anche come formidabile veicolo di promozione di un intero territorio. Un segnale di grande attenzione per una città fondamentale nello sviluppo della Palacanestro d'Italia dove peraltro ha sede la Lega Basket e quindi siamo molto felici nell'occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario di fondazione della Lega di poter fare questo grande evento a Bologna.